Sono Madrena Fucile e mi occupo della gestione attiva di Cigliana di Sopra. Sono Matteo Vaccari e in azienda mi occupo di tutto quello che riguarda fare il vino, la gestione delle vigne e qualcosa di commerciale. Noi vogliamo assistere la natura con quello che ci può dare e l'etica per fare un vino più buono e generale possibile da quello che ci troviamo ad avere. Un momento cruciale della nostra azienda è l'annata 2018 in cui abbiamo deciso con Maddalena di dedicarci full time a questo progetto. Diciamo che questo rappresenta un momento fondamentale in quella che è la storia attuale di Cigliana di Sopra. Questa è una bottiglia molto particolare perché è la prima bottiglia che abbiamo fatto e abbiamo deciso appunto di imbottigliare un primo vino che fosse Chianti Classico, quindi è un po' la nostra bandiera insomma, ci siamo molto affezionati. Noi subiamo le stagioni e le dobbiamo affrontare e poi siamo sotto le stelle, quindi non c'è mai niente di certo, quindi tutto questo porta noi viticoltori ad essere sempre molto attivi e quindi ci vuole tanto amore, tanta dedizione per arrivare in fondo alla bottiglia.